L'ha citato, colleghi deputati, collega Mollicone, deputato Mollicone, la richiamo all'ordine, tornate al vostro posto e depositate i cartelli, tornate nelle vostre postazioni. L'ha citato, colleghi deputati, collega Mollicone, la richiamo all'ordine, tornate al vostro posto e depositate i cartelli, tornate nelle vostre postazioni, la salito sospesa. Ma dimmi che non potevano sospenderla prima a questo punto. Eh sì, è quello che si spesa. Eh sì, è quello che si spesa.